E benvenuti ragazzi sono Gberg e sono qui oggi a portarvi velocemente tutte quelle che sono le sfide di questa settimana qua riguardo agli gnomi affamati Scusate se sentite rumori strani ma c'è il muratore sul tetto quindi sentirete rumori assurdi Comunque ho scaricato questo video di una youtuber americana, se riesco vi lascio anche in descrizione Andiamo subito a vedere i posti Allora, io se riesco ve li taglio tutti perché lei ha fatto un video di due minuti e mezzo però parla anche Quindi in teoria ce ne sono più di sette però io ve ne mostro sette è quello che ha detto lei nel caso Il primo è qua a Corso Commercio come vi sto indicando adesso Lo trovate qua, anche lei ha preso spezzoni di tanti altri youtuber quindi se non mette la stessa skin sempre è per quello Poi c'è un altro qua al campo da calcio Lo trovate dietro questa sieditina qua Poi ce n'è uno qua a Greasy Groove, lo trovate lì di fianco alla mappa, trovate il punto Poi c'è un altro a Salty Spring dove dovrebbe esserci anche la sfida mi pare, delle kill Poi dovrebbe esserci ancora uno, due a Tilted Tower mi pare, due Questa qua è la prima forse E la seconda E no, non c'è, c'è solo una Poi ce n'è una a Pleasant Park E poi una a Tomato Town in teoria Quindi lasciate un bel like, cerchiamo di arrivare a 5.000 iscritti E nulla ragazzi, ci vediamo al prossimo video Ciao